Bentornati a Radio Pugini On Air, Gian Maria un artista che si è fatto conoscere quest'anno grazie al Festival di Sanremo 2023 dove ha partecipato con il singolo Mostro e d'ora parte il Mostro Tour, si è arricchito di nuove date e ne parleremo tra poco dopo il sold out di Roma. Disco Dance è il nuovo singolo di Gian Maria che per la prima volta lancia come singolo un duetto con Francesca Michelin. Potete ascoltarlo subito dopo l'uscita nella playlist che trovate qui sotto nella descrizione del nostro video su YouTube. A proposito vi invito ad iscrivervi al mio canale Marco Pugini se non l'avete ancora fatto e vi anticipo prima di parlare di Gian Maria soltanto vi anticipo che uscirà a mezzanotte anche un altro singolo ed è il nuovo singolo Dimitum Fit, il sottoscritto Fammi Respirare, per cui andatelo a cercare e lo potete ascoltare anche nella playlist che vi dicevo poc'anzi aggiornata in tempo reale su tutte le nuove uscite. Gian Maria è rivelazione dell'edizione 2021 di X Factor, ha iniziato il 2023 con il botto abbiamo detto a Sanremo con Mostro, una canzone che dà anche il titolo al suo secondo album che ha conquistato il disco d'oro per le oltre 50.000 copie unità vendute. A seguire il cantautore ha pubblicato anche l'intenso duetto sulle note di Quello che non c'è degli After Hours con Manuel Agnelli, collaborazione presentata nella serata dei duetti delle cover sul palco dell'Ariston. Del suo nuovo album si sa che è un album pop con testi che vanno a pescare nelle due anime di Gian Maria quella folle e indecifrabile e quella sensibile ed empatica. Per l'estate l'artista, come già molti colleghi, sceglie di non estrarre uno dei brani dal disco come singolo ma lancia invece dal 28 aprile con Sony Music Italy Disco Dance, brano che lo vede duettare con Francesca Michelin, artista che di recente ha lanciato il suo nuovo disco Canisciolti. Ed uscirà il 28 aprile. Ecco come Gian Maria parla di Disco Dance, fuori per Epic Records, Sony Music Italy. È un brano che è la sintesi e il ritornello di un brano energico e riflessivo al tempo stesso. È prodotto da Antonio Filippelli, Bias e Gian Marco Manilardi che descrive con questo brano deschie con la cassa in quattro il disagio di una ragazza che sente di non aver trovato il suo posto nel mondo. Ma ecco come ne parla Gian Maria, ve lo leggo. Disco Dance è un titolo con il quale spero di spiazzare l'ascoltatore. Il brano parla di una ragazza, Viola, alla quale ho fatto impersonificare il mio lato femminile staccandola completamente da me e facendole prendere vita. Spiega Gian Maria, presentando Viola, la protagonista della canzone. Nella mia immaginazione Viola è una ragazza che si accorge di voler andare via da una provincia ma non coglie la prima occasione per scappare e rimane rinchiusa in un luogo che odia e non le appartiene. Riguardo al duetto con Francesca Michelin invece afferma Francesca ha dato un bellissimo colore con la sua voce alla canzone. Quando ho scritto il testo, prendendo l'ispirazione dal luogo in cui sono cresciuto ho pensato subito a lei che come me viene da una realtà vicina nella provincia di Vicenza. E invece Francesca Michelin aggiunge collaborare con Gian Maria è stata una bellissima esperienza attraverso la musica siamo riusciti a scoprire di avere tanti punti in comune. Come me anche lui viene da una realtà di provincia e questo ci ha permesso di entrare in sintonia da subito. Disco Dance è un brano che affronta temi attuali e che sento vicini come la paura di non riuscire a trovare il proprio posto nel mondo o di non riuscire a cogliere l'attimo. L'occasione è per scappare da ciò che ci fa sentire stretti. Allora, vediamo insieme quali sono le date del tour del cantautore dal 13 maggio a Teramo, il 15 maggio Bologna, il 18 maggio Milano, il 21 maggio Torino, il 22 maggio Padova, il 25 maggio e il 26 maggio a Roma tra cui il 25 maggio a largo venue è sold out. Per cui se siete di Roma affrettatevi per la data del 26 maggio. Vi lascio con una piccolissima anticipazione del testo. È arrivato un altro sabato mentre tutti gli altri ballano. Viola sta nella sua stanza e continua a guardare il soffitto. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Radio Puggini On Air. Restate sintonizzati.